Benvenuti nella nostra cucina. Oggi prepariamo una ricetta medievale. Un peggio rosato con polenta di foxtail e una delle sauce medievale più popolari. Una grande ricetta per celebrare un Christmas medievale. Iniziamo con gli ingredienti. Potremmo un peggio, un po' di pane, vinagre, il giusso, e le spezie, il pepe nero e i peggio. E poi per la polenta necessitiamo il peggio rosato e la foxtail. Prima spettacolare il peggio rosato. Torniamo i piedi e le uova e facciamo il peggio a spettacolare. Il peggio rosato con il peggio rosato, mettendo il peggio dietro il peggio rosato e riuscivano sempre per cuocerci al peggio. Mettiamo un pano sotto il peggio rosato per collezionare le peggio, mentre il peggio rosato. Potremmo le peggio rosato per preparare la sauce e la polenta di foxtail. Questa ricetta è parte di un manuscritto XIV secolo, convenzionalmente chiamato Anonimo Meridionale. Questo piatto consiste da polenta fatta con foxtail, un peggio rosato e una sauce chiamata di peverata, peggio rosato, che la ricetta è missing in questo manuscritto. La peverata era una delle sauce medievale più popolari. Trovate ricette hanno survived in altri ricettari. E useremo una di queste ricette, dall'un altro manuscritto XIV secolo, per completare il peggio. L'autore Anonimo non ci diceva come rossare il peggio. Abbiamo seguito le direzioni di un altro manuscritto, intitulato Liber de Coquina, che suggerisce rossare il peggio e cuocerci al peggio, senza nessun altro fatso. Questo è inizialmente in cucina medievale. Inizialmente i rossi sono cuocati con lardo o cuocerci al peggio di peggio, ma non in questo caso, probabilmente perché il peggio è già abbastanza fatso. Nel peggio si cuocano, prepariamo la sauce. Rossiamo una parte del peggio di peggio e una slice di pane. Per la sauce abbiamo usato la ricetta di Maino de Maineri, un autore del XIV secolo, che ha scritto un libro molto interessante sulle sauce, intitulato Opusculum desaporibus, che semplicemente significa un libro sulle sauce. Siamo usati solo una parte del peggio di peggio, questa sauce non è intenzionata di essere peggio basata. Il peggio deve riuscire il sapore della sauce senza l'avventurarlo. L'autore specifica che dovremmo tostare il pane fino a che sia nero. Siamo seguendo queste direzioni, cercando, comunque, di non far farlo troppo. Soprimiamo il pane in vino bianco. Soprimiamo nel mortaio un po' di peggio, una buona quantità di peggio nero e un po' di salto. Soprimiamo le ricette per questa sauce in molti ricettari medievali. È chiamato in latino peperata, da Maino de Maineri, e peperata, in italiano, dall'Anonimo Meridionale e altri autori. Questo nome può essere tradizionato come peperi sauce, e il peper è il ingrediente più importante, tanto così che molti autori non lo menzionano, lo prendendo a conto. Gli altri ingredienti cambiarono davvero da un altro ad un altro. Maino de Maineri ha scritto tre ricette per peperata. Soprimiamo la che si racconta per peggio. Soprimiamo il pane e il pane nel mortaio. Soprimiamo il pane nel morto. Soprimiamo il pane in maniera medievale. Soprimiamo il pane in quasi tutte le ricette per peperata, spesso tostato fino a nero e poi sottilato in vinagre, se non lo cuore si racconta a una colora specifica per peperata. Per esempio, bianco o giallo. In questi casi il pane è solo un po' tostato, o non tostato. Soprimiamo il pane in maniera medievale. Poi diluiamo la salsa con un po' di piperata di peperata e una buona quantità di acqua. Soprimiamo una salsa con una buona acidità per balanzare l'fatto di peperata. La salsa si tratta abbastanza pesante quando la cuocere, quindi per ora deve essere abbastanza liquido. Ora cuociamo la salsa e ridurre fino a ottenere una consistenza morbida. Il giusso, chiamato agresto nell'italiano ricetta medievale, è un vino abbastanza assurdo prodotto con gravi non ripi, definito solo come ingrediente di cuocere e non come peperata. È frequentemente usato in maniera medievale. Inoltre, la ricetta originale chiamata per gravi freschi e ripi, che, quando sono in seasona, sono spesso utilizzate intercambiabili con il giusso nei ricettari medievali. I autori medievali soltanto suggeriscono sostituire gravi freschi e ripi quando non sono in seasona, con il giusso o altri ingredienti, come il limone o il giusso di oranze, e anche il vinagre. Ci cuociamo il mille di foxtail con il milio di gara, due piccoli di salto e un po' di gara. La ricetta chiamata per la carne o la carne, ma avrete un risultato perfetto, anche con il milio di gara. L'autore suggerisce questa ricetta per tanto il milio di comune e il milio di foxtail. Abbiamo chiamato il milio di foxtail, simile al milio di comune, in forma e sapore. L'autore fu utilizzato e coltivato dopo l'antiquità e nel medioevo. L'autore è considerato meglio del milio di comune, come riportato nel comune del XIII secolo da Pietro di Crescenzi nel suo trattato agricoltore. L'autore suggerisce cuocerlo in milio, invece di acqua, e descrive come preparare tutta il milio di foxtail e la farina. Seguendo le direzioni dell'autore anonimo della ricetta, ci cuociamo il milio di foxtail fino a che sia cacciato e richiede la consistenza di una consistenza profonda. Abbiamo usato 200 grammi di foxtail e 1,5 litri di milio di foxtail. Ma l'amount di milio può cambiare davvero se lo cuocerete low o high, con oltre o senza litro. Il foxtail si cuocera in meno di 20 minuti, ma il nostro obiettivo era di cuocerlo, come suggerito dal autore medievale, quindi lo cuoceriamo frequente per altri 20 minuti. Caraviamo il cuocerlo e lo serviamo sulla polenta di foxtail e mille, coattata con la salsa. Per il tuo menù di Christmas medieval, vi suggerisco di aggiungere questo con altri piatti popolari, come ravioli e piazza. Questo cuocerlo è un modo delizioso per ravioli per ravioli un cereal almeno scoperto, che fu sicuramente usato durante i migliori, aggiornato con il sapore ricco di ravioli, e una delle salle più popolari medievale. Se siete interessati in frutti e frutti, o siete solo cercate di ricette inusuali e deliziosi, iscrivetevi al nostro canale. Grazie a tutti!